Si è spento Leonardo Gritti dopo tanti anni di sofferenze. Il bomber di Treviglio è stato vittima di un malore dopo una partita amatoriale sul campo di Erzago d'Adda nel giugno 2012. Gritti è stato costretto da allora a vivere sotto assistenza continua e si è spento nella notte fra domenica e lunedì. Classe 1974 Leonardo era stato notato e ingaggiato dall'Effe con cui giocò diversi campionati di C1 e C2 arrivando a giocare addirittura qualche parentesi al Monza in serie B.